E se oggi c'è qualcuno che può aiutare a trovare una soluzione è perché c'è qualcuno che è in grado di dialogare. Penso che l'Europa non sia a tre, penso che l'Europa sia a 27, penso che si debba riuscire a parlare con tutti i 27 membri dell'Unione Europea. Come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia e pure con l'Ungheria. Come io riesco a parlare con la Germania, con la Francia e pure con l'Ungheria. Grazie a tutti.